ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi andiamo a fare insieme una torta di mele molto molto semplice e veloce iniziamo subito prima cosa andiamo a sbattere due uova e poi ovviamente andiamo ad unire lo zucchero in questo caso vado a utilizzare quello di canna e come sempre trovate tutti gli ingredienti in descrizione procediamo con aggiungere i liquidi quindi il latte e l'olio di semi e ovviamente continuiamo a mischiare per bene aggiungiamo quindi le polveri quindi la farina 00 e il lievito e per dare un gusto in più possiamo aggiungere anche un pizzico di sale e procediamo con mischiare per bene il tutto guardate che bel bell'impasto procediamo quindi con aggiungere le granelle di nocciola o potete sostituire con le noci piuttosto che con quelle delle mandorle e poi possiamo aggiungere mezza mela tagliata a pezzetti e mischiamo per bene ovviamente io vado ad aggiungere anche quello che è la cannella perché mi piace moltissimo però ovviamente se non vi piace non mettetela e andiamo a mischiare per bene il tutto trasferiamo poi il nostro impasto su una teglia e il gioco è fatto e ovviamente disponiamo l'altra metà della mela tagliata in pezzetti a spicchi proprio sulla teglia e andiamo ad infornare ecco qui il risultato io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo mi raccomando iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati sui prossimi video e come sempre se provate a farla fatemi sapere come vi è venuta e se vi è piaciuta ciao a tutti